giovedì 5 di ottobre ci troviamo oggi sulla spiaggia di fiorenzuola di focara dove come vedete alle mie spalle regna questo scenario particolare di decine decine di capanne di legno accatastato a testimonianza di quanto anche in quest'estate sia stata frequentata questa spiaggia particolare del san bartolo è una spiaggia nella quale via terra ci si arriva solo attraverso la strada del mare che parte dal borgo di fiorenzuola di focara strada accessibile per i pedoni ma altrimenti resa inaccessibile per quello che riguarda le problematiche relative all'alluvione del maggio scorso siamo venuti qua proprio all'indomani della visita del generale figliuolo commissario alla ricostruzione dopo l'alluvione di maggio perché questa strada non è stata ritenuta come intervento prioritario dalla regione Marche come interventi post alluvionali abbiamo fatto questa mezz'ora di camminata dal borgo alla spiaggia in compagnia di Yolanda Filippini presidente delle quartiere e di Davide Manenti ex presidente del parco san bartolo che reputa questa mancato inserimento di priorità per quello che riguarda gli interventi sulla strada di assoluta miopia amministrativa questa decisione degli amici del centro-destra mi lascia veramente molto perplesso posso sintetizzare con un'affermazione miopia totale miopia questa strada è una risorsa turistica il parco san bartolo è il fiore all'occhiello di tutto il comune di pesaro abbiamo tre strade che scendono a mare ritenere non prioritaria la manutenzione di una strada come questa ripeto è sinonimo di non compatibilità ambientale quindi di scarsa conoscenza e di miopia percorrendo è appunto la strada abbiamo visto mancanza di fessurazioni caditoie piene smottamenti ci sarebbero tanti piccoli interventi di manutenzione ordinaria da fare che sommate insieme rendono la situazione straordinaria come hai potuto vedere gli interventi che sono stati fatti sono quelli post incendio li abbiamo effettuati insieme a matteo ricci subito dopo l'evento del 2017 e così tutto è rimasto avevamo messo in sicurezza il percorso con tutte le funi per il transito pedonale alcuni tornanti la regimazione delle acque e e questo ci ha permesso di arrivare fino ad oggi gli eventi straordinari di questa di questa primavera hanno fatto quello che hai visto fino adesso se si interviene in maniera diciamo puntuale ordinaria i danni possono essere anche contenuti se si aspetta che il tempo passi si aspettano le risorse che peraltro poi ci sono noi abbiamo ancora 5 milioni da spendere e su quello ci sarebbe tanto altro da dire probabilmente arriveremo a un punto tale che i danni saranno talmente tanti che non basteranno nemmeno quelle risorse qui l'incuria è manifesta io mi rifiuto di accettare questo stato di fatto sono appena tornato dall'austria lì le strade arrivano fino sotto i ghiacciai le mettono a pagamento facciamolo anche noi teniamo a posto la strada qui ogni estate soprattutto quest'estate c'è stato un corposo flusso turistico molti stranieri molti bambini nonostante la strada diciamo sia un po' erta in salita così comunque molti bambini e quindi anche un turismo un po' per famiglie non solo per giovani eccetera la mente lessi tante derivano dalla mancanza dei servizi non c'è stato un bagno chimico non c'è stato non c'è l'acqua non c'è una fontanella per delle rotture e gli altri anni che c'era un gestore della spiaggia qui con un chiosco che seguiva anche controllava i bivacchi notturni quindi fuochi selvaggi così non ci sono stati e quindi sono tante lamentele che questi turisti si riportano su dalla spiaggia nonostante la bellezza che possiamo tutti vedere e quindi queste manutenzioni sono veramente necessarie per sopperire a tutte queste criticità che ci troviamo noi poi dopo a sopportare e a supportare in ogni modo Davide Manenti su questo luogo all'attenzione di una persona che ci è cresciuto per tutta la vita che è stato presidente del parco San Bartolo e che ora è tornato in consiglio comunale le chiedo aspettando e sperando che si muova l'amministrazione regionale su questo fronte cosa può fare il comune cosa può fare il parco? Beh cosa può fare il parco? Già il parco noi abbiamo fatto quando c'ero io abbiamo cambiato insieme ad Andrea Bianchiani la pianta organica a un cantoniere del parco già ci può far venire a fare manutenzione in quota parte quello che può fare essendo un sentiero del parco ricordo che sopra c'è il sentiero Dante Alighieri dotato dalla scuola Dante Alighieri di Pesaro sotto mio invito detto questo come consigliere comunale con Matteo abbiamo già delle idee chiare dei progetti in merito non posso già svelare tutto ma se in termini di cantoniere di quartiere ma anche di interventi diciamo mirati grazie a dei fondi intercettati con bandi mi pare regionali europei riusciremo i prossimi giorni a dare delle risposte diciamo parziali ad un problema enorme che deve per forza vedere coinvolta la regione con lo stanziamento di risorse sono stati spostate delle risorse per completare i lavori delle scogliere che abbiamo qui davanti che hanno grazie a quelle scogliere oggi abbiamo la spiaggia altrimenti non ci sarebbe la spiaggia questa non è una spiaggia naturale hanno spostato le risorse di ripascimento da Firenzola a Castellimezzo sono dei dispetti ma questi dispetti cosa provocano danni enormi non si finisce un'opera e non servono niente dall'altra parte una goccia del mare non è il modo corretto di operare